U. MaurizioPoli.it, questo giovedì 9 novembre, alle 14.30, alle 18.30, modererò l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Consiglienti Patrimoniali, la sezione di Milano con quella di Bologna, sì, tutte e due unite per questo importante evento, sul tema del Venture Capital, le opportunità, la fiscalità e poi una tavola rotonda per quanto riguarda i casi di successo. Apertura dal Presidente Bossi per quanto riguarda la sezione di Milano, poi i vari relatori, una piccola tavola rotonda con i casi di successo, importantissimi per approfondire la tematica del Venture Capital a favore delle piccole e medie imprese del territorio, un altro grande evento dell'Associazione Nazionale Consiglienti Patrimoniali. Vi riporto qui in calce a questo video il link per poter partecipare gratuitamente, esaurimento posti, ce ne sono ancora pochi, tutti, partecipate, vi aspetto a Milano giovedì 9. Alla prossima!